Ciao, questo primo giorno di domenica, caldo, che inizia così. Io cazzo parlo. Ciao. Ciao. E allora, la prima sveglia? Ciao. Ciao. Ti faccio io. E allora, quando gli hanno fatto un main? Batman Joker. Ehi, ciao, fa caldo. Siamo alla DJ. Dove ho casato? Eh, lo so. L'hai fatto anche il mio, me l'ha fatto da bestia a raffaello, quando ci sono andato. Vedi che anche qua il rosso non è un rosso unico, è un rosso tutto grattato. Giacomo, una sfida. Nel prossimo weekly, ogni volta che vi quadri qualcuno che svappa, devi metterci il rumore del drano in corsa. Vai, in questo. Eh sì, ma sei spenta? Io ho altra, mi sembra di Daniele. Stai a sbagliare, mi bastava a premere e usciva tutto. No sì, io svappo e niente. Ah, ma è pesante tu? Cosa è che ha? È pesce. No, ha l'azienda. Ok, è partito il video. Buongiorno, siamo qua con Giacomo. E quanto è... Bellissimo, io aspetti a questa parte per favore. Ma anche Mirko, guardalo. No, no. No, che schifo. Sarà pronta la nostra pizza? Allora, che vediamo la situazione. Io ho fame e sono esattamente le 6 e un quarto, quindi non è giusto questo mondo. Ho fame. Ma tu non sei un vero vlog? Voglio sianare. Se non tieni qua. Ah, quella. Sì. Ciao ragazzi, spacchettamento epico. Messi, tozzo mio Dio. Epico. Marco Toni. Ha del talento questo ragazzo. Ciao. No, andiamo per la pizza adesso. Quanto brutto. Siamo arrivati qua, che eravamo in 7 e ora siamo in 8. Ma dove è finito Mirko? Ah, eccolo, scusami. Scusa. Giacomo. Giacomo, tieni la videocamera. Tieni. Tieni. Non ridere. No, la voglio io. No, no. Maledetto. Adesso andiamo a prendere la pizza. Ecco la nostra pizza al sommo. Io ve l'avevo detto che era pronta. Che salmonata che è. Oh. Questo è un bestezione. È buonissima. Madonna. Allora, non ti le tre di qua. Non mi do le tre di qua, va bene? Sì. Quelli sono equilibrati. Quella è sotto il tavolo. Ah, ok. Oh, questa è su. Buona. Niente. È buono con il gelato di sei che mi ha messo la sigaretta. È il gelato l'accento. Eh, è il gelato l'accento. Ma no, sei buono. Ma tutti gli cretini che... Te. Ci. Pensi che lasci in giro. Ti rendi conto. Ti rendi conto. Ma tu ti rendi conto che tu... Posso un po' di rupola? Tu la ti abbrusciate. Grazie. Buona la vita. Sì, che culo hanno. Smarzo ha fatto compere. Come non lo conoscete voi? Si è preso le scarpe Adidas. Ragazzi, spacchettamento epico delle mie scarpe nuove. Wow. 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 Oh mio Dio, guardate. Wow. La lancia in una spalla. Si è troppo reazione in ogni video. Si è troppo reazione. Mi chiamo Luis. Ho preso il cavalletto che fa anche da sterica della Mavrotta e sono molto felice. Veramente felice. Sì, ci sediamo qua dentro. E' stra bello. Ci sono sempre due. Ciao. Sì. Che bello è? I panini nel KFC con questa luce. Amalette. Amalette. E' ragionato. E' piccola. C'è. Ma è piccola una volta. Però c'è il full of free. Posso iniziare? Sì. Non si stai riprendendo. Sì. E non si rimangono qua. Eh, perché mi vai in same bike. Ah. E' piccante. E' piccante. Ma io ne ho provato questo. Mi piace di più il da volcante. Questa è sempre solo quello. Ok, il panino l'ho finito. E' bello che ho mangiato la pizza un'ora e mezza fa. Era meglio la pizza. Era più buona la pizza. Ah, è più buona la pizza. Ah, è più buona la pizza. E questo è proprio. E questo hai preso. Allora, questo è cotto e patate. Poi ho preso quella alla carbonara e quella con il cacio e pepe. Tanta roba. Chiara, Alice. Tu cosa hai preso questa? Tanta roba. Piedina con l'impasto al tamut con cotto e insalata. E' buona? No, ho mangiato troppo. Quel porco. Ho mangiato anche la pizza prima. Vabbè. Non me lo vuoi sentire a vedere dei nostri dei cani. Buona. Perché c'è un po' di pezzo? Pesciò, di. No. L'acqua di giovani. Che gli oi. Aspetta, aspetta che ho scasato. Che vuole delle pubblicità, vada. Brava Giovanna, brava. Praticamente le nostre cene sono ci sediamo qui e passiamo giro dei ristoranti a tante le cose. E' bellissimo che poi, con il tastino, girano. Ehi, papi. Andiamo a trovare Squiby. Stai adesso, viste a crema. No, no, no. Addio. No. Non ti fa voglia universo vegano. E' l'unico posto che non mi fa voglia. L'universo vegano, no. Qui, lo dice anche la parola. Vegan, no. Sono arrivati con qualsiasi altro da mangiare. E' mia teoria. Il mio complotto era giusto. Ma andiamo con i gini. Un gelato. Un vegano. Un gelato vegano. Sì. No. Ora, questi sono gli occhieri che si è presa la sera. Allora, che sono? Spiega di cosa sono. Burberry. Eh? Burberry. Guarda. Come va inizio? Avevo ragione. Ma tu come ordine? Vorrei due euro di questa? No. Vuoi un pezzo, vuoi un pezzo di questa? A me neanche so quanto. Mi puoi farla vedere nel video due volte. Due volte. Mentre di così. E ora ce l'ho a dormire che sono molto stanco. Ciao. 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 Grazie a tutti.